indovina quanti anni ha lui? vince? 32 ma come 32? ma sono un po' troppi no? 27 vabbè sì ciao di 26 anni ma con le 26 anni? ma abbiamo chiesto fino alla stessa età ma come cattiva con lui troppo buona 27 di più di più? sì 27 anni no ma c'eri quasi 29 hai dominato